Da Confindustria, il posto in fabbrica. RTL cento due cinque incontra le aziende italiane. Sono le sette e quarantotto minuti, ogni mercoledì incontriamo le aziende italiane, oggi lo facciamo con Win 3 Retail che nasce come Win 3 Retail nel duemiladiecie della società che gestisce il canale di negozi di proprietà appunto di Win 3. Oggi stanno cercando quaranta figure nuove in varie sedi, Lucca, Bergamo, Milano, Bologna, Brescia, Verona, Torino, ma poi ci faremo aiutare meglio ovviamente dall'ospite Stefania Matrone, direttore Transformation and Development di Win 3 SPA. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. A nome di Win 3 grazie a RTL cento due cinque e anche a Confindustria per darci la possibilità di parlare di noi e di quello che facciamo. Allora già i nostri ascoltatori al tre sette otto tre sette otto cento di cinque manifestano interesse perché ovviamente eh Win 3 retail nell'ambito delle telco è molto conosciuta quindi sappiamo più o meno quello che potrebbe essere l'ambito. Capiamo bene di cosa si dovrebbero occupare queste persone che state cercando. Innanzitutto come Win 3 i nostri ascoltatori ci conoscono, ci occupiamo di telefonia, siamo il primo operatore di telefonia mobile in Italia per numero di clienti, offriamo soluzioni sul fisso e eh da poco anche soluzioni per la le utenze domestiche, quindi luce e gas. Eh oggi parliamo dei negozi che sono per noi al centro della strategia commerciale perché sono il luogo in cui incontriamo i nostri clienti, in cui ci prendiamo cura di loro e lo facciamo grazie ai nostri consulenti commerciali che sono delle guide che accompagnano i nostri clienti eh verso per esempio l'utilizzo consapevole della tecnologia. Sappiamo quanto è difficile oggi stare al passo delle evoluzioni tecnologiche e quindi come Win 3 vogliamo un po' eh aiutare i nostri consumatori a vivere queste esperienze al meglio. Allora queste persone che cercate devono essere già formate oppure no? Allora questa è la caratteristica dell'iniziativa che si chiama eh Ready for Win 3 che abbiamo ideato e progettato insieme a Fondi Impresa. È un'iniziativa innovativa perché è un'iniziativa innanzitutto di formazione attiva finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato. Quindi per rispondere alla domanda in realtà non necessariamente perché l'iniziativa nasce proprio perché eh non tutti hanno già l'esperienza necessaria magari si ritengono non pronti per avviare questo percorso lavorativo invece con questo programma quindi assunzione e formazione sia in in aula ma soprattutto in negozio eh noi riteniamo di poter aiutare i nostri candidati ad essere pronti per iniziare. Allora sicuramente stiamo parlando di quaranta posizioni eh insomma su succose le chiamo così perché sono comunque posti che prevedono poi un'assunzione a tempo indeterminato non prevedono particolare preparazione la preparazione si fa in azienda. Chi aspettate? Chi dovrebbe suonare alla vostra porta? Chi sono queste persone? Sono giovani? Sono laureati? Sono diplomati? Aiutaci. Allora sono ragazze e ragazzi non abbiamo limiti di età uno dei nostri valori più forti è quello dell'inclusione e quindi possono essere diplomati, laureati. L'importante che siano curiosi verso la tecnologia eh che stiano bene con le persone e che quindi possano trovare gratificazione significato nella relazione con il cliente, con le persone e che abbiano un atteggiamento positivo perché in Win3 questo è un po' uno delle una delle nostre caratteristiche. Certo poi appunto stiamo raccontando nei nostri incontri negli ultimi anni in realtà eh che da parte dei lavoratori c'è sempre maggiori interesse nei confronti di cosa l'azienda ha da offrire anche in termini per esempio di eh gender gap quindi quanto importante che i salari siano uguali tra eh uomini e donne? Eh questa è una cosa di cui andiamo particolarmente orgogliosi siamo l'unica telco al mondo ad aver conseguito una certificazione fatta da un ente indipendente sul fatto che in Win3 a parità di livello non c'è differenza di retribuzione tra donna e uomo quindi è una cosa di cui andiamo molto fiere. Eh sì, valore importantissimo. Allora qualche giorno fa abbiamo parlato di competizione no? A livello di istruzione quindi università, scuola ma anche proprio a livello lavorativo. È qualcosa di estremamente presente alla vostra realtà una competizione che naturalmente vuole essere sana e vuole essere finalizzata no? A raggiungimento di determinati obiettivi. Assolutamente sì eh il nostro mercato, il mercato italiano è si contraddistingue per un elevato eh livello di competizione questo naturalmente è positivo per i consumatori come Win3 ci impegniamo a continuare ad investire continuamente per costruire la migliore rete di comunicazioni possibile per eh per dare significato al nostro scopo che è eliminare le distanze tra le persone. Allora mentre l'annunciavo e preparavo questa chiacchierata insieme a lei dicevamo una serie di città in giro per l'Italia perché le figure cercate sono un po' ovunque. Eh la candidatura la mandiamo tutta a www.unimpiego.it slash il post in fabbrica. In realtà poi eh sono diciamo molte le zone dove potrebbero essere assunti questi ragazzi. Considerate che abbiamo più di settecento negozi sul territorio nazionale quindi hm ci sono tantissime possibilità sarebbe riduttivo adesso parlare di città. Quindi il nostro invito caloroso è di candidarsi di provare perché abbiamo creato questa iniziativa insieme a fondi impresa proprio per eh rendere pronti tutti i candidati che siano interessati. Molto bene allora lo ripetiamo www.unimpiego.it slash il post in fabbrica per eh mandare il vostro curriculum. Noi ringraziamo Stefania Matrone direttrice transformation e development di Win3SPA. Il post in fabbrica torna mercoledì.